Intro Bentornato Goodlier, bentornata Andiamo ora a trattare l'installazione del sistema operativo Ti descriverò le fasi dell'installazione pulita supponendo di installare Windows 8 da un supporto sia esso ottico che drive USB Dopo aver settato il BIOS, qualora non lo fosse avrai la possibilità di avviare il tuo PC o da supporto ottico o da pennetta USB Si presenterà a te questa schermata Dovrebbe comparire il logo di Windows 8 con in basso dei puntini che ruotano qualora non comparissero i puntini che ruotano però attendi Non riavviare il PC pensando che magari l'installazione non sia avviata cosa che ingenuamente ho eseguito io alla primissima installazione La successiva schermata dopo qualche minuto si presenterà come questo screenshot nel quale potrai scegliere qualora già non fosse predisposto la lingua, il formato dell'ora e della valuta e il layout della tastiera successivamente clicca su avanti come detto se non fosse preselezionato selezionano altrimenti clicca su avanti la successiva schermata si presenterà con il tasto installa al centro oppure in basso a sinistra troverai il pulsante ripristi nel computer che potrebbe essere utilizzato qualora tu dovessi recuperare l'avvio del sistema operativo e quindi ripristinare un computer che non si avvia più si avvierà quindi ora il programma di installazione successivamente selezionerai il sistema operativo che dovrai installare che in questo caso specifico è Windows 8 Professional su un'architettura di processore a 32 bit naturalmente clicca su avanti ora è il momento di accettare le condizioni d'uso e leggerle eventualmente tu volessi dopodiché clicca su avanti nella successiva schermata deciderai il tipo di installazione da eseguire potrai aggiornare il sistema operativo da uno precedente al nuovo sistema operativo conservando i tuoi file le impostazioni i programmi oppure come vogliamo in questo caso specifico personalizzare l'installazione eseguendo un'installazione pulita quindi di fatto formattando il disco rigido clicca quindi sul pulsante personalizza e a questo punto dovrai mettere mani alle tue conoscenze già acquisite in quanto dovrai ricavare dello spazio all'interno del tuo disco rigido per fornire memoria sufficiente nel quale installare il sistema operativo qui una schermata di esempio di dove sarà installato il sistema operativo ma su macchina virtuale si presenterà quindi resoconto dei tuoi supporti di memorizzazione nel disco rigido scegli naturalmente quello che più prediligi oppure ricava una partizione all'interno del tuo disco rigido dove sarà installato il sistema operativo ricava uno spazio sufficiente per poter anche installare in seguito programmi all'interno del sistema operativo all'atto della creazione della partizione ricorda come già hai visto in Windows 7 verrà automaticamente creato anche uno spazio di memoria riservato al sistema per il suo lavoro in questo specifico caso sarà di 350 MB il pulsante invece elimina, formatta e nuovo ti permetteranno appunto di eliminare, formatare o creare una nuova partizione terminato ciò seleziona la partizione primaria dove installerai Windows 8 e clicca su avanti a questo punto puoi fare una pausa infatti in questo momento si avvierà l'installazione vera e propria che durerà un tempo variabile in base alle risorse del tuo PC dovrai soltanto controllare che tutto avvenga senza errori al termine il PC si avvierà e tu non interagire controlla soltanto lo scenario cambierà in quanto il sistema operativo avrà preso possesso dell'hardware del tuo computer e inizierà a soggettare i dispositivi per il suo lavoro dopo una fase preliminare dovrai interagire col processo dovrai inserire il tuo product key che avrai ricevuto via email se l'avrai acquistato e scaricato Windows 8 online oppure sarà scritto sulla scatola di acquisto dopo aver inserito la stringa alfa numerica all'interno della sezione clicca pure su avanti verrà verificata la legalità del seriale e nel caso in cui tu volessi comunque inserire il product key in seguito potrai semplicemente cliccare sul pulsante ignora ancora lavoro per te infatti in questa schermata potrai personalizzare l'aspetto del sistema operativo inserendo il nome del PC e selezionando il colore dello sfondo dell'interfaccia che si mostrerà subito al termine dell'installazione questo tramite un cursore che scorrerà a destra o sinistra naturalmente al termine clicca su avanti di seguito la scelta delle impostazioni in questa fase io selezionerei il pulsante personalizza e non le impostazioni rapide per rendere più vicino alle nostre necessità il sistema operativo l'installazione del sistema operativo una serie di nuove schermate appunto ti consentirà di avvicinare il sistema operativo alle tue scelte alle tue necessità in primo luogo potrai scegliere se condividere la tua rete attivando la condivisione e la connessione dei dispositivi utile in particolar modo per le reti domestiche o aziendali oppure non attivare condivisione e la connessione dei dispositivi se è una rete pubblica nella successiva schermata la scelta delle impostazioni sulla metodologia degli aggiornamenti per il sistema operativo infatti tramite un menu a tendina potrai scegliere la modalità dell'installazione degli aggiornamenti importanti e quelli consigliati naturalmente io installerei automaticamente gli aggiornamenti importanti e andrei invece a selezionare quelli consigliati noterai anche dei cursori che ti permetteranno di attivare o disattivare delle opzioni nel primo caso lascerei attivo naturalmente il download della ricerca e l'acquisizione dei driver delle applicazioni e le informazioni per i nuovi dispositivi la sezione inferiore invece ti consente di attivare o disattivare opzioni per potreggere il computer e la tua privacy a te la scelta in base all'utilizzo che farai o meno di Internet Explorer nella mia scelta personale infatti non impiegando Internet Explorer mantengo disattivate le opzioni che si presentano dopo di ciò clicca su Avanti la successiva schermata presenta altri cursori che deciderai se attivare o meno per inviare informazioni automaticamente alla Microsoft ed aiutare gli sviluppatori per migliorare il sistema operativo ed i programmi dopo la scelta anche qui clicca su Avanti altra schermata sulle impostazioni con dei cursori direi di attivare tramite questo cursore la segnalazione di errori di Windows per cercare eventualmente soluzioni ai problemi che si presentano del tutto in maniera automatica le altre opzioni le lascerei disattivate clicca pure su Avanti e la schermata successiva è la novità rispetto a Windows 7 infatti potrai accedere al tuo PC sfruttando un account Microsoft con il quale potrai anche in seguito scaricare applicazioni dal negozio o dallo store della Microsoft questa operazione comunque la potrai anche eseguire in seguito se decidi potrai inserire direttamente l'indirizzo email del tuo account Microsoft oppure potrai anche crearlo se non lo possiedi fatto ciò clicca su Avanti alternativa è accedere in questa fase senza un account Microsoft al computer al sistema operativo quindi cliccando su questo pulsante accederai a questa nuova schermata che ti suggerisce nuovamente di accedere con un account Microsoft al computer evidenziando le differenze se possiederai e accederai con un account Microsoft oppure con un account locale ma noi accediamo in questa fase tramite un account locale account Microsoft che lo creeremo lo utilizzeremo in seguito a questo punto inserisci il nome che darai al tuo account al tuo accesso al sistema operativo tramite l'accesso locale scegliendo un nome ed eventualmente anche una password potrai anche inserire un suggerimento alla password qualora si verificasse la possibilità di dimenticarla dopo clicca sul pulsante fine e il tuo lavoro sarà terminato infatti l'installazione inizierà la sua fase di finalizzazione ed una serie di schermate colorate con dei messaggi che durerà qualche minuto ti alliederanno prima di visionare la nuova interfaccia a piastrelle che ecco qui rappresentata tramite questo screenshot a questo punto il tuo lavoro sarà terminato e avrai portato a termine l'installazione pulita di Windows 8 se devi avviare da DVD aspetta che ti compaia questo messaggio e digita un tasto in questa prima fase comparirà il logo di Windows e dei puntini che roteranno se non dovesse comparire il logo o i puntini attendi comunque qualche secondo perché ciò non significa che l'installazione non sia avviata in questa schermata naturalmente potrai selezionare la lingua il layout e il formato dell'ora dopodiché clicca su avanti in questa nuova schermata potrai scegliere di ripristinare il computer qualora fosse necessario per risolvere dei problemi oppure cliccando sul pulsante installa si avvierà il programma per l'installazione di Windows 8 cosa che dovrai attendere dopo questa schermata qui non ti resta che verificare la versione che sta installando e clicca su avanti ora non ti resta che accettare le condizioni dei licenza d'uso se vorrai potrai anche leggerle e dopo clicca su avanti qui potrai decidere di aggiornare Windows mantenendo i file e le impostazioni nella precedente versione del sistema operativo oppure personalizzare l'installazione quindi spazzare tecnicamente via tutto eseguendo una formattazione dell'hard disk dove è installato il sistema operativo quindi clicca su questo pulsante per procedere alla installazione ora potrai decidere di allogare un determinato spazio ma qui abbiamo presente una macchina virtuale in azione quindi clicca su opzioni unità compariranno i tasti elimina formata o nuovo che ti permetteranno di creare eliminare o formattare una partizione dove installare il sistema operativo qui applichiamo i parametri già di default presenti per creare una partizione di lavoro per il sistema operativo clicca su ok per avviare la creazione della partizione come puoi vedere è stata creata la partizione riservata al sistema e la partizione dove verrà installato il sistema operativo che potrai eliminare e formattare come detto in precedenza assicurati di aver selezionato la partizione adeguata clicca pure su avanti e da questo momento potrai fare una pausa in quanto si avvierà l'installazione vera e propria del sistema operativo a cui seguiranno anche una serie di riavvii del computer controlla saltuariamente che non si verificano problemi e per il resto a seconda all'installazione dopo il riavvio del sistema operativo inizieranno a prepararsi i dispositivi il sistema operativo avrà preso possesso dell'hardware del tuo computer preparandoli per il loro utilizzo ora potrai decidere di ignorare questa schermata oppure inserire il codice product key che avrai acquistato e dopo clicca pure su avanti ora metterai mano alla personalizzazione del sistema operativo innanzitutto tramite questo cursore potrai decidere il colore dello sfondo dell'interfaccia che si presenterà dopo l'installazione nel campo sottostante deciderai il nome da dare al tuo computer dopodiché clicca pure su avanti qui potrai decidere se utilizzare le impostazioni rapide dando una letta a quanto riportato oppure decidere di personalizzare l'installazione come credo meglio sia infatti potrai decidere se attivare la condivisione e la connessione dei dispositivi oppure no clicca pure su attiva altre impostazioni personalizzate per quel che riguarda Windows Update puoi installare automaticamente aggiornamenti importanti e consigliati ma io direi soltanto gli aggiornamenti importanti lascia pure attivata l'opzione di ottenere automaticamente i driver e applicazioni del sistema operativo mentre potrai decidere di attivare o disattivare in base all'utilizzo che farai di Internet Explorer le opzioni successive dopo la scelta clicca sul pulsante avanti in questa nuova schermata di impostazioni a te la libera scelta se aiutare per così dire a contribuire per migliorare Windows selezionando o deselezionando le opzioni mostrate dopodiché clicca su avanti anche qui altra scelta di impostazioni sicuramente lascia attivata o di utilizzare le segnalazioni di Windows decidi in base al tuo utilizzo se lasciare attive o meno le altre opzioni dopodiché come al solito clicca su avanti questa è la novità rispetto al precedente Windows potrai decidere di utilizzare il dispositivo accedendo all'account della Microsoft inserendo l'indirizzo email o creandone un altro oppure accedere senza un account Microsoft cosa che potrai comunque decidere in seguito di cambiare scegliendo un account Microsoft o un account locale qui evidenziate le due differenze decidiamo per il momento per un account locale e in questa nuova schermata dai il nome utente al tuo pc in pratica sceglierai il tuo id utente per accedere alla postazione quando si avvia il sistema operativo potrai scegliere anche una password o un suggerimento e clicca su fine ora la parte finale che durerà pochi minuti nella quale ti verranno mostrate alcune nuove funzionalità del sistema operativo il tuo lavoro è praticamente terminato controlla giusto per scrupolo quanto viene mostrato a monitor e al termine avrai il tuo nuovo sistema operativo presentato il sistema operativo ti allerta che è quasi pronto c'è da esserne sicuri infatti ci sono le ultime battute per le impostazioni personalizzate e tra qualche secondo avrai in mostra il nuovo scenario di Windows 8 eccolo a te presentato con la nuova interfaccia a piastrelle di qui alla prossima lezione ripartiremo da questa interfaccia per interagire con questo nuovo sistema operativo nella prossima lezione inizierai a vedere cosa ci presenta il nuovo Windows 8 ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e alla prossima ciao a presto